Serve un'interrogazione regionale sull'erosione e quanto chiede a gran voce Fratelli d'Italia attraverso le parole di Monica Picca e Fabrizio Ghera, rispettivamente capigruppo nel decimo municipio e alla regione Lazio. Nella notte tra sabato e domenica una violenta mareggiata ha spazzato via decine di metri di costa e oltre 20 cabine. La zona più colpita è stata l'area a sud del canale dei pescatori sul lungomare Lutazio-Catulo. La mareggiata ha riportato a galla il problema dell'erosione di Cone 2 e, oltre ai danni agli stabilimenti, dobbiamo registrare l'inagibilità del canale di cui ci siamo occupati già in precedenza. Il blocco, come avvenuto anche in passato, proseguono Ghera e Picca, non permette agli operatori di svolgere le operazioni in uscita e in entrata al mare, con i conseguenti danni economici a tutto l'indotto ittico. Chiediamo chiarezza e presenteremo un'interrogazione alla regione. Le risorse economiche sono state stanziate e le procedure di gare espletate, ma il presidente Zingaretti ancora non ha mosso un dito.